Come dicevi Isernia la conosci? Come la conosci veramente? Ci sono stato. Signore ci sei stata Isernia? Da dove sei? Da la provincia di Campobas. A quale piccolo paese? Cercia Maggiore. No, Campo di Pietro. No, no. Stiamo vicino. Vicino al Campo di Pietro. Cercia Maggiore. Cercia Maggiore. C'è un grande paese. Da dove? Cercia Maggiore. Ci siamo sempre a San Mettorio del Paese. E qui ci sono di Brianna. Brianna, tu sai. Da dove ne devi? Dice dalle mazzarie. No, no. No, la mazzarie di Carugge. Da dove sei? Dalle mazzarie delle pesche. Dalle mazzarie delle pesche. Dalle mazzarie delle pesche. Ehi, sapete che c'è lì? Ma che dà sotto? E che ho usato? Tutto quanto. Guarda qua il fondale in generale. Ci sono da macciambalone. In basso. Adesso il mozzo finino tutto quanto. Tutto il cazzo facendo. Oh, come siete? Cazzo, non ce lo posso male. 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 Ciao. 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 Ciao.